Vuoi iniziare al massimo l'anno di FIFA 21? DigiVolt fa il caso tuo Se vuoi creare la tua squadra dei sogni E iniziare a spacchettare per trovare le migliori icon E i migliori top player È il momento di passare da DigiVolt Il mio codice sconto e tutti i link sono in descrizione Ciao a tutti ragazzi, qua è Exet e oggi Siamo tornati con il suo video Di nuovo con un draft challenge Torniamo con il rated Sono usciti i tots, i primissimi tots Quelli della community Tanti top player come Valverde, Alaba E quindi nuove possibilità di fare alzare il rating della squadra Io prima di iniziare vi ricordo come sempre di spaccare di mi piace a questi video Se volete tanti altri draft E nei commenti cosa ne pensate di questi tots Secondo voi, chi è il più forte che è uscito? Iscrivetevi al canale, condividetevi ovunque Ed ho detto questo, basta parlare Buttiamoci nella challenge Eccoci qua, nel draft Prontissimi Abbiamo vari tentativi Speriamo che il draft droppi Perché ricordiamoci che quest'anno FIFA è davvero birbantino Mamma mia ragazzi Davvero brutte 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 Non so quale prendere Andiamo col 4-5-1 Ma davvero bruttissime Si parte però molto molto bene Davvero ottimo come partenza Full Bundesliga le carte speciali Prendiamo Sancho che è un bel bel rating 92 di rating e molto alto Quindi vai, buttiamoci subito con lui Eccolo qua I nostri campioni Grandi Sempre bello giocare Le chiedo egregiamente perdono Signori della ESP Tots Ci sono due Tots Honeyman Il grandissimo uomo miele E Don Belè Bellissima foto Anche Lucas Molto carino Però vabbè Non stiamo parlando di rating Zinedine Zidane Bright Moments Ti dico Ok Però davvero davvero bello Peccato che oggi Non stiamo facendo il record di Tots Prendiamo Davy Silva Che è il rating più alto Cerchiamo sempre di prendere quello più alto Uh vabbè Tots 88 Buttiamoci tutto il Tots 88 Facciamo uno switch Almeno diamo un po' di intesa Che almeno là Quello lì è impossibile da ibridare Renato Vabbè Pio Kovacic E' restante un po' così per adesso Dai Qualche altra troppata facile Niente Questo qui che fa intesa Ok dai Olandese Olandese Tutti 86 Andiamo con Legnetto Che fa intesa con tutti Essendo che è francese Ovviamente non con Kovacic Però vabbè Kovacic Spero di non lasciarlo Nel campo titolare Qua o Burki O consigli E neanche Non più io consigli Let's go La difesa ragazzi Fa ridere Prendi Giorgio Chiellini Avevo già predetto tutto Giorgio Chiellini Mamma mia ragazzi Mi viene da vomitare Guardando sta roba Mamma mia La difesa Che sbocco La difesa Che sbocco Mio Dio Che sbocco La difesa Qualcuno mi aiuti Uuuuh Questo non è brutto Dai ma che cos'è Ma dai Ma veramente Ma cosa stiamo facendo Cos'è sta vigliaccata Signori di FIFA Che cos'è sta vigliaccata Che cos'è sta vigliaccata Vigliaccata suprema questa Ragazzi Questa è una vigliaccata suprema Lorenzie Bello Tira agire Però Eh che che Però Bello Tira agire Però Ci faccio poco null Bello Galeon Seravamo nel 2015 Oh però questo qui fa almeno un po' più di rating Dai questo non è male come rating Ottimo Ottimo Dai Qualcos'altro di buono Basta la bamba Ultime due carte Draft ragazzi Ridicolo Madonna Benedetta Ma che sta Caga Babù Babù Ragazzi Non lo aggiusto nemmeno Perché siamo a 87 di rating Anche se rifaccio la bambina Andiamo a 88 88 È troppo basso Buttiamoci nel prossimo Tentativo 4-5-1 Dai ragazzi Però comunque May Meno male Sadio Mané ci salva in corner Che brutto inizio Se no Cerchiamo di prendere le fasce No Robert no C'è uno della Premier Mamma mia ragazzi Ma io cosa tento a fare Rated Draft Ma questa è una merda Ma questa è una vigliaccata enorme Ma cosa sto giocando Ma che gioco sto giocando Uh Tomori Che carino Piccini Piccini Tataraunasu Questo video non è un rated È un meme vivente Questo video Vai Kolarov Yes sports Forse hai il calendario opposto Non siamo a settembre Siamo quasi a maggio Quasi a maggio Ma che cazzo è zinitizzità nella cosa più sicura di sto mondo Zio mio Zinitizzità nella cosa più sicura di questo mondo Per davvero Poco qua sarebbe la cosa migliore di questo mondo Perché le vorrebbe metto quell'altro Questo matto inglese Un altro esterno Ma non me ne faccio il brodo Esterno esterno Tutti esterni sinistri a parte CR7 Vado a mettere CR7 Ma non per altro Perché se no non ibrido più la sito Veramente non l'ha ibrido più Davis terzino di inizio Ci faccio il brodo oppure tengo qualche no Non ci faccio veramente il brodo Leo Messi a destra Piamo Messi per il rating Non è affatto male il Momo Vabbè si prende al massimo per il rating Questo non lo posso levare minimamente Manco gli allenatori Che nemmeno se vai a giocare ubriaco Te li danno questi allenatori Nemmeno il 189 Scartiamo di nuovo questo draft Andiamo nel prossimo Ultimo draft Quindi concentrati Dobbiamo fare la cosa Perfetto dobbiamo essere perfetti Allora tutti i moduli Bellissimi però voglio andare Con il 442 contenimento Quello in linea Quindi andiamo con quello in linea Andiamo con quello proprio Super mega classico Vediamo un po' come si parte Tutti i future stars Rating bassi Cere 7 oro Un po' Grrrr Perché Cavolo Se ti vuoi riuscivi a dropparmelo Speciale Adama Prendi portillo Portillo era proprio il giocatore Che sognavo Luca Modric Footbird Non lo lascio scappare Buono 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 Il polpone non male Il polpone è tanta roba Però c'è Milinkovic Che ha un rating più alto E più intesa Quindi essendo che Milinkovic Ha più rating Si prende Poi fa anche più intesa Ottimo 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 Wow Prendi rober Verde Non avevo nemmeno visto Quindi ottimo Peccato Mh 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 Sado male Questo Bruno Mi servirebbe Però una concina Signor FIFA Parliamo Parliamo tra amici Tra compari La concina Ancora non me l'hai droppata Eh Eh FIFA Occhiolino Me la droppi adesso Me la droppi alla prossima Eh T'ho capito Alla prossima Va bene Alla prossima Ah Questo è importante Figa se è importante Importantissimo Questo momosalà Mio dio se è importante Alla prossima Ancora Vabbè Un giocherellone FIFA FIFA è un giocherellone FIFA è un giocherellone Me la droppa Alla prossima Ok Ok Alla prossima Alla prossima Ne mancano tre carte FIFA FIFA Ehi FIFA Va bene la mia icon FIFA FIFA Questa non è un icon FIFA FIFA Questa non è un icon Potrei dirti che questa non è un icon Vorrei dirti che questa non è un icon Il rating è molto buono Molto molto buono Ma questa non è un icon Signore di FIFA Questa è una merda Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego Dai ma che è sta cagata Chesedo Hai rotto il cazzo Mannaggia Chesedo Mannaggia Sì oh mio Ma che cosa vedo Cosa vedo nei miei occhi Adesso capite il perché Non portavo un rated draft challenge Da tipo Un mese Più Ecco perché non lo porto più Figa Non droppa nulla Non droppa nulla ragazzi Non droppa nulla Questo È bello che E il draft Finché non apriranno I rubinetti Io non credo di riportare Un'altra challenge Nel draft Perché non ha senso Per vedere sta roba Oltre che io ci perdo Troppi crediti Ma poi non ha nemmeno senso Perché fa ridere Davvero ragazzi Vi giuro fa ridere Quindi ragazzi Se ho giusto al termine Anche di questo draft Davvero davvero Dispissutissimo Perché mi aspettavo Un pizzichino di più Qualche cosa in più Però Non mi Non ero nemmeno Informatissimo Sul draft Perché ho detto Vabbè dai È passato Due mesi Dall'ultimo Sono uscito Di tozza Avranno aperto Un pizzico di più Rubinetti Ahimè ho fatto Tutto quello che potevo E spero davvero Vi siano piaciuti Come draft Almeno che vi abbiano Strappato un sorriso O almeno una risata Io vi ricordo Davvero importantissimo Che il martedì Giovedì Venerdì E domenica Dalle 5 di pomeriggio Fino alle 8 di sera Sono in live Sul sito Viola Quindi passate a seguirmi Il link in descrizione Vi ricordo ovviamente Di lasciare tantissimi mi piace Nei commenti Iscrivetevi la vostra A voi come vanno i draft Iscrivetevi al canale Condividetevi ovunque Passate al mio Instagram Come trovate qua sotto E allora è tutto questo Vi ringrazio il viso del video Vi ringrazio il sostegno Da X E tutto Haters Make me famous Grazie a tutti